Se non leggo il nome del nemico che elimino all'incontrario il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ragazzi ora ci butteremo di agensi per tentare la sfida di oggi che credo l'abbiate già capita E se non leggo il nome del nemico che elimino o dei nemici che elimino Al contrario il video finisce E si ragazzi non sarà facile Questa sfida io credo sarà semplicemente impossibile Perché il grado di difficoltà che ho riscontrato è impossibile Per esempio ora è già questo tipo No, allora I, Tarm, W, DS Ok Spero di non averlo letto male Ragazzi pure se lo leggo male datemelo per buono vi prego Che è veramente troppo troppo difficile Mamma mia meno male che l'hai limitato tu Sta un tizio qua, porca miseria Attenzione fra, sta arrivando un altro, sta arrivando un altro eh Attenzione pure a sinistra, a sinistra Ok Ramek Xeflf Da dietro, da dietro, da dietro, da dietro No, 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 no Mamma mia che stiamo facendo Meno male che me l'hai rubata Fra, più, tu, più che il mi rubi meglio è Perché io tanto non riesco a leggere No, ok, ok Vattene, vattene, vattene Lascia sta, lascia sta Fre, 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 fre No Dio benedetto No, no Trenta, dai, 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 dai Perché poi il nome sta anche poco Ho capito la scritta Sta anche poco del nemico che limini Ragazzi comunque volevo dirvi che Emgreen tra l'altro è un ragazzo che gioca spesso con me in live Praticamente ogni sera Infatti se anche voi volete giocare con me Vi lascio in descrizione nella sezione live streaming Il link al canale Viola dove potete seguirmi E dove streammo ogni sera Intorno alle 8-9 Quindi ragazzi mi raccomando vi aspetto in live Non stanno arrivando Non posso leggere il nome Non posso leggere il nome Ok, lo leggo da qui È praticamente Setto Zero Zero David Z Quindi Z D I V A D Ok, ormai sto diventato bravo anche senza leggere Per quante volte stiamo a fare sta sfida Non sia persone sia pur due Uno è eliminato, uno è eliminato Uno lo tiene in testa Dieci Sono morto, fra io Io non ho materiale Sono forto dei gamer e posso farcela Ok E L P M 1 S S Vabbò 7 P X P E non l'ho visto ragazzi Mamma mia Sta sfida è veramente troppo difficile Scusatemi se non lo faccio Però è Folle Qua sotto ci dovrebbe essere un po' di roba Ci sta il tipo Ci sta il tipo Ok Naeg Poi era Venom Quindi Naeg Nomev Nomev Credo Monev ragazzi Monev per essere precisi Ok Mi sono un po' fallato Però ho dato la mela per buona Mamma mia ragazzi Questa non sarà una sfida facile Non sarà per nulla una sfida facile Sono saldatato sta uno Ragazzi Il nome lo leggo dopo Il nome lo leggo dopo Anzi eliminalo Allora E 9 6 XX Noi E intanto ragazzi Arriva pure un altro tipo Vabbè Sì Ciao Uh No 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 Fra Stai spiegando un po' fa No è Impossibile Ok vado vado a aspettarlo Fra Fra scendi scendi No vabbè Eh no fra Non puoi capire quanta gente c'è C'è roba come 5 persone C'è roba come 5 persone Veramente Non No è Scandaloso È scandaloso Veramente scandaloso Fra No 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 Non puoi capire Non puoi proprio No vabbè È finita Fra io sono morto No 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 Dio Già questa sfida è impossibile Poi Vabbè Posso capire C'è Cazzo sta succedendo a questo gioco Ok Allora Io ho trovato subito un tattico Verde Quindi Diciamo che sono pronto a non leggere tutti i nomi delle persone che incontro C'è Io poi questa sfida è difficilissima ragazzi Veramente non potete capire quanto è difficile Non si può fare C'è io veramente vi sfido a leggere il nome Della gente che mette sul PSN In una velocità di 2 secondi Che ti permette di fare il gioco Mentre fai i tattici con altra gente C'è È scandaloso È scandaloso Ok Eh vabbè Non ce l'ho fatta in tempo Vabbè ma mu Mi arriva il tipo Fra mi arriva il compagno Io poi dovrò leggere due nomi Non ce la farò mai Comincio a eliminare questo dai Allora ragazzi 4 8 2 Ah Eh no ragazzi Non lo riesco a leggere È impossibile sta cosa Vabbè Ma il bot Perché Il bot sta pensando a me Cioè quello ha un nemico di fianco Il Il bot ha un nemico di fianco Sta pensando Sta pensando a me Cioè fra Ma glielo devo spottare Non lo so Io 1 0 0 5 Nina Credo che a breve qualcuno mi salterà addosso Ok Eh ragazzi Non riesco a leggere Perché ho un nemico addosso Ottimo Iniziamo veramente In maniera ottima Ok Us I Nege R Br On S S Mos R RBR Ragazzi L'ho letto male Scusatemi Ma è impossibile sta sfida Provo a leggerlo più o meno Perché veramente Non ci riesco Ragazzi Questa è la sfida più difficile Che abbiamo mai fatto Ve giuro Una terra Ok 0 0 0 4 I D K C L Ah faccio così 0 4 U R A G L I L Ragazzi Il secondo l'ho letto bene Il primo un po' meno Faccio così bro Provo a leggere lettera per lettera Forse sono più veloce Che comporre la parola Forse si Salta la gente Fra salta la gente Salta la gente Salta la gente Fra salta la gente Fra salta la gente Fra salta la gente Fra salta la gente Eh vabbè Ok uno l'ho messo a terra Ho messo due a terra Come un deficiente Ok ragazzi T C E G R E E R T T G C F L 6 F I E A L G Non lo so L Vabbè ma veramente Ma serio R F D S L D Poi stavo numero E G Non lo so Ragazzi La sfida è folle Io poi chiappo due nemici di fila Cioè il mio cervello si fonde ragazzi Non avete idea Provo quello Provo quello Provo quello Ok W T B S T S I B Ok quello l'ho detto bene Mamma mia Altra gente Fra Altra gente Fra Altra gente Altra gente Altra gente Fra 94 Io voglio che la mia assistenza Termini ora Ti prego Em Eliminami Ragazzi Stiamo sconnette Non so da quanto stiamo registrando Però non sono scarsi Fuggono Una terra E E non lo riesco a leggere il nome Ok io elimino sto tipo Fai tu allora 3 2 S R E D N A L R A C E poi non ricordo ragazzi Ho letto fino a Carla tipo Attenzione sta qui Ok Meno male che le minimando tu Non volevo leggere Ti giuro Fra il compagno è morto Il compagno è morto 8 R A E B O K K Schio Quindi O I Fra da dietro Fra da dietro Fra da dietro Mi sto a pallare Ah ma questo era un bot Fra se vuoi ce ne andiamo C'è veramente A parte che uno Che ce ne andiamo a fa Dai Sta qua Sta qua Vai Easy Ok Era com'è Shock Quindi O K K O H S C S Mamma mia No aspetta forse non c'è nessuno No sta un tipo sta un tipo Eh vabbè Vediamo un attimo sotto ci sta un M4 azzurro eh Che ha preso un nemico Pusho io Pusho io Pusho io Ok vai X E D U D Y T L A S Ok per posto ragazzi Fatta 3 3 Ok Bella Andata Eh bianco Bianco Però bianchissimo Però credo si sia curato a questo punto Dove nemmeno pusharci Vai vai Lascia 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 Ok Y O B Poi L A T R O 0 M M I Vai N E E T S K AB Fatti cadere Lasciati cadere Lasciati cadere Chiudi Ok 2 4 M O T Destroyer Sarebbe Ray No 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 Me li sono persi 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 6 7 8